Terza Final 8 di Coppa Italia di Serie C negli ultimi sei anni per il teramo della neoproprietà Ciaccia. E per centrare una storica prima volta, quella del turno successivo, c'è il peggior avversario possibile. Arriva al Bonolis il Siutirol di Mr. Ivan Javorcic, croato portato in Italia quando era una giovane promessa da Eddie Reia. Per entrambe le squadre qualche riposo infrasettimanale e seguì di lascia in panchina Ziosmanovic e Malotti, gli altoatesini fanno altrettanto con il portiere Poluzzi, tra i meno battuti d'Europa, Casiraghi e Tait. Arbitra Eugenio Scarpa di Collegno. Al sesto la capolista del Girone A si fa sentire e sblocca. Voltan, sette partite ed un gol in questa Serie C, conferma il suo buon avvio. L'ex Ancona si incune in area dalla sinistra passando in mezzo a due, continua ad avanzare fino al centro, da dove scarica in porta, con un violento destro e manda il diavolo in svantaggio per la terza gara consecutiva tra campionato e Coppa. Ospiti che insistono, da destra a sinistra, da Voltan a Candellone, che cerca il piazzato ma alza troppo. Il Teramo ci prova e si fa vivo quando Viero apre in verticale per Montaperto, che attira se il portiere e da posizione defilata prova un tiro cross su cui nessun compagno interviene e la palla esce larga. Alla mezz'ora trema la difesa di casa. Odogwu scappa a pinto in velocità e conclude la sua terra da appena dentro l'area. Tozzo disinnesca in due tempi. Grosso rischio al trentaseiesimo per i padroni di casa. Voltan dalla destra trova cross e deviazione di Arrigoni. Una traietroia beffarda inganna Tozzo e prima il palo e poi lo stesso portiere su Candellone evitano il bis. L'attaccante in maglia 27 ci riprova da fuori poco dopo. Stavolta mancando lo specchio. Il gol è nell'aria e arriva al quarantaduesimo, piazzato dalla sinistra in favore del City Roll, che diventa oro per la deviazione di Malomo, che spizza e premia l'inserimento di Vinetò. Per il numero 5 è facile facile il 2-0 anche se c'è una sospetta posizione di fuorigioco in partenza. Le squadre vanno a riposo così. L'inizio della ripresa vede un termo in apertura più intraprendente. Ci prova senza successo il non entrato Malotti da fuori, ma la prima vera occasione arriva soltanto a metà frazione. Rosso addomestica e fa partire un velenoso fendente dalla media distanza. Meli vola e accompagna in corner. Il Teramo e i suoi tifosi ci credono, ma dall'altra parte c'è una squadra spietata. Matteo Rover avanza dalla tre quarti, porta avanti palla indisturbato e lascia partire una stoccata che sorprende Tozzo e gela il Bonolis. Per nulla esente da responsabilità l'estremo difensore classe 92 che non giocava dal 31 ottobre, giorno del KO in casa del Montevarchi. Poco altro da segnalare da qui in poi, se non un colpo di testa di Fiorani che ha lasciato poche preoccupazioni al portiere ospite e per il Teramo ora è tempo di voltare nuovamente pagina. Finisce alle Final 8 l'avventura del diavolo in Coppa Italia dopo aver inflitto la sconfitta precedentemente a Monterosi, Siena e Pescara. In semifinale va il City Roll a confermare la sua grandissima annata, avversario di turno sarà la Fidelis Andria che ha eliminato il Piacenza.